gentili lettori e gentili lettrici di oran.net buon pomeriggio anzi buona tarda serata come nel periodo del lockdown ricominciamo le nostre puntate questa sera c'è tripla doppia perché abbiamo un grandissimo ospite abbiamo niente poco di meno come diceva qualcuno qualche anno fa coach charlie recalcati buonasera coach buonasera buonasera a tutti siamo noi a doverla ringraziare per la sua cortesissima gentilissima disponibilità ora come come potete ben vedere di solito il sottoscritto che il vostro direttore fabbis e noto è di solito accompagnato da due da due lanzi che necchi che stanno a mirando che però uno non c'è l'altro forse si aggiungerà ma in compenso abbiamo aggiunto peso e sostanza ma non solo ma non ma non fisica ma direi cerebrale con mimmo angelone e cacciuni ciao ciao mimmo ciao buonasera come lanzi chinecco vuoi dire no come uomo di grande peso cerebrale comunque sono già a roma così quindi sono portato avanti nel lavoro e e non poteva mancare il nostro anfitrione nostro cicerone cioè coach gab marini buonasera coach gab buonasera direttore buonasera tutti i nostri ascoltatori e i nostri pregiati ospiti bene allora io direi di partire con la prima con la mia prima domanda quella che io avevo da tanto tempo in serbo di poter fare a coach recalcati potrebbe darci se diciamo esiste la quintessenza del del suo successo da cosa dipende perché sia come giocatore ma direi ecco che ci siamo persi coach recalcati che mi sa che temo che abbia messo ecco bene allora c'era una telefonata che ok dunque stavo dicendo il segreto del suo successo sia come sia come bandiera della squadra della pallacanestro cantuma direi ma diciamo essenzialmente come coach prego sinceramente sono molto in imbaratto nel dover trovare ma soprattutto parlare parlare di me stesso quello che posso che posso dire è che nella mia vita la cosa che mi ha accompagnato da quando ero ragazzino da milano viaggiavo per andare a cantù con con i mezzi fulman treno poi ancora fulman mi ha accompagnato fino a ad ora che ho 85 anni sono sempre in posto in ogni situazione in ogni momento della mia vita di essere sempre bene questo e questa è una cosa che ho cercato cercato di tenermi stretta e che mi ha accompagnata quando poi sono diventato da ragazzo che viaggiava da milano a cantù e nel momento in cui dal giocatore sono passato nel giro di un'estate a diventare e a decidere di fare l'allenatore il giorno in cui dovevo entrare nello spogliatoio in qualità di allenatore la cosa che mi sono ricordato mi sono ricordato appunto e forse la cosa migliore da fare era continuare a essere me stesso perché in quel momento gli allevatori che andavano di moda erano Fidgetone Bianchini quindi quando io sono entrato per la prima volta nello spogliatoio dove tra l'altro avevo alcuni miei ex compagni di squadra sono detto che se entro e faccio il filosofo mi sgiamano subito quando mi iniziano a usare degli slogan mi sgiamano subito quindi entrare con i miei pregi con i miei difetti e forse mi accetteranno per quello che sono no beh insomma due grandi allenatori due grandi comunicatori ecco esatto ma proprio perché erano erano io mi rendevo conto in quel periodo che tutti gli allenatori cercavano di copiare l'uno o l'altro e io diventando allenatore ma veramente nel giro io ho detto di un'estate ma nel giro di un mese perché dovevo andare a Bergamo in qualità di giocatore poi a sorpresa il presidente mi chiese di fare l'allenatore e dovevo decidere e quindi sono rimasto fedele al mio modo di essere e l'ho portato avanti poi per... devo dire una cosa che non è un segreto però in occasione di una presentazione dei programmi della squadra nazionale al CONI il presidente Petrucci allora presidente del CONI a domanda su quali qualità vedeva in me come commissario tecnico lui disse è una persona normale ma per me fu un complimento fu un complimento pazzesco perché ciò che io ricercavo non ho mai voluto essere niente di diverso che vicino alla normalità e quindi fu un un riconoscimento un attestato che a me fece molto molto piacere tocca un tema estremamente interessante io chiedo scusa se ho disattivato i due microfoni sia di Coach Gab che di Mimmo quindi poi riattivateli c'era un po' di massa sonora che dava fastidio mentre parlava Coach Recalcati Mimmo vuoi cominciare tu a fare una domanda o diamo palla che ce l'ha lì sotto braccio Coach Gab? Mimmo vai tu dai beh più che fare una domanda Carlo Recalcati è una persona normale che fa cose eccezionali io ho avuto la fortuna di esserne di esserne testimoni in molti casi ma abbiamo lavorato per tutto il periodo che lui è stato capo allenatore no commissario tecnico è più giusto io ero detto stampa e mi ero lavorato assieme ma le cose eccezionali per me Carlo ha cominciato a farle prima perché l'ho conosciuto ufficialmente nel 2001 e fu proprio Franco Lauro tra l'altro a presentarmelo all'Europeo in Turchia lui era commentatore della Nazionale commentatore televisivo e in panchina c'era Bosha Tanevic e Franco mi dice ti presento Carlo Recalcati veramente lo conosco ma la cosa il ricordo a cui sono legato io in realtà l'ho conosciuto nel 1976 o nel 1977 stavamo a Bormio no a Bormio a Sondrio a un camp a un vantellino circuito sì e quell'anno noi giocavamo io giocavo il camp contro avevo in squadra contro Antonello Riva che era appena arrivato al vivaio di Cantù e quindi Taurisano io ero molto forte in difesa però la prima volta che ti marcai su Antonello Riva lui per quattro volte a otto metri dal canestro io lui e il pallone mi passa il pallone in faccia e segna e vabbè poi riunione plemane arrivano i vari giocatori tra cui Carlo Recalcati e Carlo così senza nessun preavviso comincia a tirare e faceva dei tiri che nessuno aveva cioè non è che noi non sapessimo che però lui da la distanza che all'epoca non esisteva di tre metri tirava posizione di guardia a tabellone l'estra andava di là a sinistra e ne avrà sbagliati due su 120 no 120 no però due su 20 sicuramente alla fine quella che doveva essere la lezione tecnica di Marzorati è finita con l'essere finì no Carlo tirava in basta e noi tutti ammirati ogni volta che segnava applausi e Marzorati è stato lì per rinunciare al suo intervento poi Carlo lo hanno Carlo Taurisano Carlo fermati fermati un attimo e quindi è cominciato poi l'altro ricordo sul tiro e poi passiamo è stato quando abbiamo fatto la tournée nel 2002 in Cina nella tournée del 2002 in Cina quella nazionale che poi l'anno dopo che poi l'anno dopo ha vinto ha vinto il bronzo all'Europa e quindi si è qualificata ai giochi olimpici stavamo a 600 km a nord di Pechino in un centro universitario spaziale grandissimo finisce allenamento e Carlo comincia a tirare i tiri liberi ne fa 10 consecutive anche tutti quanti beh ti sei mantenuto ti sei mantenuto in forma bravo veramente erano tre mesi che non tiravo e siccome lui non è che te lo dice come per farti dispetto ma te lo dice come se fosse la cosa più normale del mondo noi lì tutti quanti con la lingua da fuori e vabbè sì stai sempre così ecco io domande no se ci sono altri ricordi adesso passo la parola a Gabriele e volentieri li tiro fuori ecco vai 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 siamo qui belli ansiosi accendi il microfono vai ma in effetti quello che tu ci racconti sono tutte bellissimi assist che io uno di questi lo voglio prendere come voi sapete da stamattina ci sono gli stati generali a Villa Panfile a Roma e vi posso dire che i temi di apertura della giornata sono stati Europa sì Europa no Trump o Putin Roma o Lazio Cantu o Varese e addirittura Charlie la passava sta palla o tirava sempre ecco qual è il tema che vorremmo sapere da coach Carlo perché Mimmo l'uomo della federazione che tutto vede ha alzato questa palla e non la schiacciamo Charlie com'era questa storia ma dunque riprendo riprendo dall'inizio l'intervento di Mimmo in quel camp che era in provincia di Sondrio e precisamente in Val Colorina io oltre che fare il dimostratore arbitravo anche quelle partite e mi divertivo moltissimo mi divertivo più ad arbitrare che non a tirare che era una cosa che facevo normalmente ma certo e quindi non mi costava assolutamente nessuna nessuna fatica il tirare il tirare dopo mesi dopo mesi di inattività in effetti non mi è mai costata fatica e anche tuttora che non tiro ormai più insomma potete immaginarlo ma quando mi capita in giardino di fare delle gare di tiro libero con la mia nipotina che ha 13 anni prendo la palla dopo mesi di inattività gli dico gli dico gli dico dammi un paio di tiri per riprendere la misura poi dopo comincio e e non ti fa inizio e l'abitudine e l'abitudine ritorna fuori e quindi quindi è una cosa una cosa spontanea una cosa naturale per cui arrivando alla domanda del coach considerato voglio dire quanto mi era facile fare canetto secondo te avevo 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 il desiderio di passare la palla oppure no e quindi sicuramente passare la palla era la cosa che mi riusciva meno però non è neanche vero che insomma che non ero che ero un mangiapallone no ce l'ha detto Meneghin coach questo ce l'ha detto Meneghin che è voluto essere immortalato sicuramente sicuramente sistematicamente con il mio amico ciccio della fiori infatti loro due a 100 metri da casa mia qui a Cantù e quindi il ritornello di ciccio della fiori ormai è stato questo quindi lui dunque sembra che l'unico suo problema sia quella di dire a tutti che io non passavo la palla ed è una gaga che portiamo avanti ma ormai vernicamente anche quando ci ritroviamo poi con tutti gli ex compagni di squadra per una pizza una volta al mese o ci capita magari di fare un po' di cabaret in qualche occasione in qualche evento e allora io sto al gioco e lui aspetto solamente che lui fa non so è carta godelenda est quindi devo anche essere onesto sicuramente mi piaceva mi piaceva volevo chiederle una cosa invece un attimo più tecnica se il direttore me lo consente assolutamente noi abbiamo avuto abbiamo avuto diversi ospiti qui in questi mesi non solo per il lockdown ma proprio per la passione di andare a sentire prima di tutto come state e poi come è andata la vostra carriera eccetera eccetera tra questi tra questi ospiti tra questi ospiti abbiamo avuto anche gente che scusami Gabby intanto si è unito a noi lucio Luciano Pizzi da da Caronno per Tusella zona zona di Varese zona diciamo di confine tra Varese e Milano siamo a 45 km da Varese e 14 da Milano quindi bene ti presento coach del Calcate che non credo che abbia bisogno di tante presentazioni però vai Gabby scusami vai no no chiedevo tecnicamente siccome abbiamo avuto rispetto al tiro e al tiro libero lì voglio arrivare siccome abbiamo avuto anche dei performers che lei ha conosciuto sto parlando di Righetti Rigo girava intorno al 93% a stagione nelle stagioni migliori parlo della Virtus non solo Virtus Roma dalla lunetta dalla linea della carità allora io le chiederei tecnicamente se è vero se corrisponde al vero il fatto che il tiro è poi alla fine una questione di ripetizione meccanica mettiamoci sopra l'allenamento mettiamoci sopra tante cose il tiro libero da quello che abbiamo appreso da questi ospiti è una questione prima di tutto mentale rispetto a quello che si può dire lei e può dire ai nostri ascoltatori com'è questa storia del tiro e del tiro libero vabbè è assolutamente vero cioè il tiro libero è teoricamente molto più facile di un tiro in azione però lo è solo teoricamente perché senz'altro la componente emotiva e la componente emozionale ha la sua importanza tu giochi la partita e esegui il tiro che l'azione ti porta ad eseguire a seguito di un'organizzazione a seguito di un passaggio spesso di un compagno perché te lo sei costruito uno contro uno ma sei in una situazione dinamica in una situazione dove c'è l'avversario quindi non hai il tempo per poterti preoccupare se il tiro va dentro se il tiro va fuori la preoccupazione è quella di battere l'avversario di prendere il tempo di eseguire l'ultimo pensiero è che tu puoi sbagliare il tiro libero invece è un tiro da fermo dove praticamente sei tu il pallone il canestro e tutti che si stanno a guardare e che tutti aspettano l'esecuzione del tiro poi entra in gioco chiaramente il momento della partita perché ci sono tantissimi ottimi tiratori ci sono stati tantissimi ottimi tiratori in allenamento e in partita nei momenti in cui la partita non era nel vivo o nel momento caldo e poi dopo si sono persi o si perdono quando quando chiaramente il tiro libero decide la vittoria piuttosto che la scampita quindi c'è da distinguere anche questo però è vero ha ragione rigo che nel nel tiro libero il fattore emotivo è quasi pari alla tecnica di tiro lucio siccome sei sei sempre entrato tu sei uno dei Lanzi Chenecchi che sta a Milano che mi ha sempre dato grande grande sostegno in tripla doppia prego vai vai tu chiedevo prima a te direttore un breve assunto di questo inizio un breve incipi di questo inizio ci siamo sperticati in lodi giuste e minime per parciali recalcati lui ci ha ricordato di essere una persona normale che effettivamente con tutta questa voglia di di essere super la sua normalità è eccezionale perché comunque un uomo semplice da da cose semplici da grandi da poche cose semplici si fanno grandi grandi cose e poi Mimmo ci ha raccontato i suoi anni i suoi primi anni quando ha conosciuto Coach Recalcati con i suoi con i suoi aneddoti quindi poi sei poi sei intervenuto tu quindi vai sulla questione tecnica di Gabba perfetto infatti io tornavo un po' alla carriera perché tu hai detto una cosa bene una persona appunto normale chiamiamola normale perché sai la normalità secondo me non esiste però nella sua pacatezza nella sua tranquillità nella sua chiamiamola normalità si è trovato più volte a gestire elementi importanti anche a livello proprio caratteriale mi viene in mente la sua siena vincitrice dello Scudetto del 2004 mi pare con con Joe Forte e Lonnie Baxter due personaggi particolari oppure oppure no no aspetta aspetta prego prego Gaff vai Gaff no no nella nella scena del 2004 c'erano Buzzi Thornton Vanterpool ah c'erano di Vanterpool David Anderson Zukauskas Vukcevic e Stefano più Piagic Galanda i giovani i giovani i giovani vitali insomma è una gran bella squadra è una gran bella squadra ed era una squadra devo dire da quel punto di vista eh dal punto di vista caratteriale delle personalità tra le più facili da allenare che io ho avuto nella mia carriera ah beh sicuramente c'era che comunque allenato anche personaggi come Pozzecco incastrati in una nazionale che sembrava nazionale destinata di underdog che invece ci ha portato a a un argento olimpico secondo me la seconda nazionale più forte della storia dopo quella di Moscow 80 o Rodinant che ha visto che ha tanti elementi in comune penso proprio di sì pure io Corso o Rodinant eh no beh sì quella è la migliore è la migliore nazionale mai esistita sottoscrivo però la nazionale del 2004 ha giocato la miglior partita in assoluto della storia della nazionale e beh certo con la Lituania che ovviamente io non io non riuscivo a crederci anche lì anche lì c'era stata la diatriba rispetto agli anni precedenti con Pozzecco non chiamato a Tannivici mentre lei l'ha proprio chiamato lì in quella nazionale c'era un po' di di cherelle popolare va bene ci dica ci dica qualche retroscena di questa la cherelle la cherelle inizia inizia l'anno prima quando il posto l'ho lasciato a casa esatto perché perché allora partiamo dalla preparazione del 2003 per andare in Svezia e nei primi 15 giorni a Bormio io mi rendo conto che quella era la squadra che io dovevo a cui dovevo dare precisi punti di riferimento perché facendo un passo indietro non bisogna dimenticare che rispetto alla squadra che io avevo redditato da Tannivici sono venuti a mancare nel giro di un'estate Fucca Andrea Meneghin e Carlo Magli e quindi era una squadra che perdeva i tre punti di riferimento c'erano giocatori sicuramente di assoluto valore come ad esempio Basile e come ad esempio Galanda che erano abituati però in quella nazionale a essere il cambio di e quindi a non essere protagonisti però io sapevo che erano in grado di essere protagonisti perché le avevo avuti uno a Varese e in fortitudo e l'altro in fortitudo e quindi sapevo che avevano le capacità per essere protagonisti però lo dovevano diventare in nazionale cosa che non avevano mai fatto e quindi era una squadra che aveva bisogno dovevo chiaramente affermare la leadership di Bulleri in regia il sostituto di Andrea Meneghino l'avevo individuato in Matteo Soragna che era arrivato in nazionale a 26 anni non aveva mai giocato prima quindi era una squadra che aveva bisogno di trovare dei punti di riferimento e doveva diventare squadra poi il suo grande merito quello di aver scovato Soragna perché in pochi ci credevano io nei due anni appena sono arrivato in nazionale il problema che mi sono posto mi sono posto prima di tutto di poter recuperare quei giocatori che la nazionale aveva perso perché potevano venirmi utili ad esempio voglio dire mi diedero la disponibilità Pizzis Nando Gentile Stefano Rusconi Pizzis poi venne anche a giocare giocò anche una grandissima partita a Pesaro contro la Russia Stefano Rusconi mi diede la disponibilità incondizionata anche a venire solo a fare allenamento se aveva bisogno di allenare Gagic e Marconato che erano chiaramente i pivot della nazionale ho trovato grandissima disponibilità e ho cercato di andare a guardare attraverso direttamente ma anche molto attraverso degli allenatori che lavoravano sul territorio che cosa offrivano i campionati chiamiamoli così minori che stavano sotto al campionato di Serie A ed erano giocatori che io conoscevo molto poco perché ero sempre negli ultimi anni dedicato dedicato alla Serie A e attraverso poi una serie di raduni che avevo l'abitudine di fare anche con giocatori di categorie inferiori non so c'è stato Matteo Soragna che ha fatto anche le partite di qualificazione però ad esempio c'è stato anche Davide Lamma che ha partecipato a tutti questi raduni si è messo in mostra e poi dopo ha fatto la squadra per per Svezia per Svezia 2003 tornando 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 a Pozzecco io mi sono reso conto che lui non era 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 d'intraccio nel trovare le gerarchie e quindi io siccome a Pozzo voglio bene come a mio figlio non ho voluto fargli passare quello che io avevo passato da giocatore quando in un'estate è passata per la Nazionale dopo due mesi e mezzo di preparazione alla partenza per le Olimpiadi sono stato lasciato a casa ed è una cosa che mi ha segnato tantissimo e quindi non volevo con Giancarlo Primo con Giancarlo Primo sì 1972 e quindi non volevo che Pozzo provasse un'esperienza di quel tipo e ho preferito lasciarlo fuori subito chiaramente il Pozzo non ha capito perché se l'è presa si è risentito però io sono andato avanti per la mia strada e siamo arrivati in Svezia appunto trovando i nostri punti di riferimento e diventando una squadra con appunto i tanti preci ma i molti difetti ed è stata effettivamente il segreto di quella squadra la capacità di essere squadra di essere gruppo però poi dopo una volta qualificati per le Olimpiadi mi sono posto il problema che per le Olimpiadi non poteva essere sufficiente ciò che avevamo fatto e che avevamo bisogno di qualcosa di più e poi qualcosa di più non poteva che essere la freschezza la fantasia il talento di Gianmarco che in una squadra invece a quel punto costruita consolidata poteva starci a pennello quindi l'arrivo di Gianmarco nel 2004 venne accolto senza nessun problema dei compagni di squadra ma anzi venne visto da tutti come una possibilità maggiore per fare qualcosa di buono anche le Olimpiadi mi permetto di dire poi do palla a Mimmo io noi abbiamo rivisto su Sky le gare sia del 2003 che del 2004 abbiamo visto quelle del 99 però quella del 2003 forse ho visto un Grecia Italia che avevo dimenticato ma comunque c'è di una bruttezza spaventosa botte da tutte le parti poi loro erano super favoriti perché loro avevano uno squadrone un diamantidis giovanissimo insomma era comunque una squadra di sicuramente maggior spessore no sottoscrivo sottoscrivo l'ho rivista anch'io e di fatti durante la partita mi messaggiavo con Fabrizio Frates che era il mio assistore e tutti e due continuavano a messaggiarci ma come abbiamo fatto io ma vinciamo sia sicuro che poi mi tornero a vincere perché è stata sicuramente non è stata il non plus ultra dello spettacolo però è stato allora la mossa la mossa è stata quella quella di tocchiare sulla caramanzia il coce della Grecia vi svelo vi svelo questa cosa ecco ci dica il mattino il mattino noi facciamo il canonico allenamento per ripassare le ultime disposizioni le scelte difensive fatte e ci incrociamo chiaramente con con la Grecia con la Grecia anche che e Kakiusis che era il mio giocatore a Siena no? chiacchieriamo parliamo insomma un po' e lui mi dice no sai perché il nostro allenatore è scaramantico e quindi per lui il numero 13 è proprio tabù non bisogna nominagliolo non bisogna assolutamente e quindi noi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto abbiamo preso una delle sedie siccome le panchine erano già state assegnate e quindi abbiamo preso una delle sedie numerate con il numero 13 e l'abbiamo messo dove c'era la panchina accanto alla panchina della Grecia in modo che come arrivava sul campo si vedeva il numero 13 davanti bellissimo perché dobbiamo obiettivamente cercare cercare ogni occasione ogni appiglio per poter venire a capo di quella Grecia perché noi non dobbiamo dimenticare che il giorno prima avevamo già fatto un'impresa battendo la Germania e quindi insomma le difficoltà aumentavano però devo dire anche una cosa proprio perché io ricordo è chiaro che ho un bellissimo ricordo delle Olimpiadi però se devo 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 dire quale manifestazione ricordo più volentieri ricordo sicuramente il Grecia 2003 perché è stata non solamente il successo di una squadra di basket ma di una squadra perché la squadra era veramente granitica granitica anche attorno ai giocatori perché perché il lavoro di tutti coloro che collaborano con noi posso posso citare Mimmo visto che è presente ma è rappresentante di tutti ognuno veramente aveva e dava il suo contributo ma lo dava non perché perché il ruolo esigeva che doveva fare quello ma semplicemente perché si sentiva di fare sempre qualcosa in più e e noi siamo arrivati a giocare ad esempio la la finale con la Francia dove poi adesso tutti ci ricordiamo il risultato ma è stato voglio dire un percorso voglio dire ad ostacoli perché noi abbiamo iniziato eh con in quintetto base Bulleri e e quindi già quintetto base da lato a referto e Bulleri si infortuna negli ultimi minuti del riscaldamento ah sì 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 e va negli spogliatoi e quindi devo devo in 30 secondi devo decidere decido per ramma perché voglio mantenere Basile in posizione in posizione di guardia e nel secondo tempo si infortuna Basile fortunatamente è tornato Bulleri e sapete sapete perché il merito del ritorno di Bulleri è sicuramente del preparatore fisico dell'osteopata del dottore che nello spogliatoio hanno accudito sicuramente nel miglior modo possibile Bulleri ma il segreto del recupero di Bulleri sta in una cicletta che nello spogliatoio stazionava da giorni stazionava da giorni perché il nostro addetto ai materiali se me lo consentite il magazziniere Pietro Pietrazzini che non si limitava a fare esclusivamente il suo lavoro di portare maglie lettini e cose di questo genere pensando di essere utile alla squadra ha prelevato dal dal settore fitness del palazzo dello sport di Svezia questa sigletta l'ha trafugata e l'ha messo nel nostro spogliatoio guarda caso guarda caso ne abbiamo avuto bisogno perché se non ci fosse stata quella cicletta non so se Bulleri ce l'abbia stato in grado di giocare allora questa è la misura io lo racconto sempre perché dà la misura come in quel gruppo veramente tutti si sentivano partecipi e si sentivano importanti e quindi ognuno cercava di fare qualcosa oltre quello che gli veniva chiesto oltre quello che il loro ruolo prevedeva questo a tutti i livelli eh ho citato Pietro però posso citare appunto Mimmo e per non parlare di Claudio Silvestri di Roberto Gioni dei miei assistenti del preparatore del preparatore fisico ed è stata veramente una 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 commettiva una squadra una squadra che veramente quando 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 io poi ora è un po' di tempo che non ne faccio ma quando mi chiamano nelle aziende a parlare di team building certo giusto della squadra dei collaboratori che ho avuto in quella trasferta svedese sono l'esempio per te spiegare che cosa vuol dire essere squadra Mimmo sei stato citato quindi sei stato nominato quindi adesso ci devi dire almeno ci devi raccontare eh quantomeno se avevi percepito l'importanza e la sensazione che partendo per Stoccolma le cose poi avrebbero preso una piega favorevole devi accedere il microfono io ho avuto ho avuto la fortuna di e lì è stata proprio una fortuna perché sono arrivato al campionato europeo in corso nel 99 di far parte della squadra che poi ha vinto loro e e abbiamo vissuto come dice Carlo il lutto perché i tre giocatori che che sono stati nel 99 nel miglior quintetto e Fucca miglior giocatore di tutto l'europeo sono andati via certo la 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 consapevolezza era che Carlo è in grado di dare capace e lo fa senza lui è capace si d'accordo l'uomo normale però lui è capace di da un lato di metterti pressione con leggerezza tu non te ne accorgi ma fai di 10-15 cose a una velocità il giocchio dall'altro con un tranquillo sorriso ma questo non è stato ancora fatto ma come ecco detto questo poi ti capitava il mio lavoro essere essere anche un testimone poi ti capitava di di come è capitato a me di assistere cose al di fuori del normale noi abbiamo perso con la Francia ma malissimo e c'era Bulleri che continuava a tirare dopo Carlo mi ha spiegato ha detto Bulleri se non segnava un canestro non l'avrei tirato fuori il giorno dopo perdiamo con la Slovenia quindi siamo 0-2 e abbiamo la partita decisiva con la Bosnia in conferenza stampa dopo la partita con la Slovenia Carlo dice la partita con la Bosnia in Zegovina domani è la partita della vita e beh poi aspetta ci pensa tutta la notte il giorno dopo dice Mimmo dobbiamo chiamare i giornalisti io ho detto mica voi dai dimissioni no no devo parlare cioè io non vorrei parlare troppo vorrei parlare un attimo vorrei parlare un attimo di quello che ho detto ieri sera e io mi ricordo che eravamo nella hall dell'albergo e lui gli ha detto a tutti i corrispondenti italiani ha detto io ieri sera ho detto una cosa inesatta è vero che stasera la partita per noi è importantissima ma ci stanno i ragazzi dell'altra parte che stanno venendo da un'esperienza personale molto traumatica loro hanno giocato fino a due giorni fa per la vita noi giochiamo a pallaccanismo chiaramente il riferimento era la guerra nella ex Jugoslavia e quindi tutti quanti siamo rimasti poi con Bosnia e Zegovina è andata tutta bene Bosnia e Zegovina vinciamo e dobbiamo partire subito subito perché eravamo terzi alla fine siccome noi ci scambiavamo con l'altro girone l'altro girone c'era Israele Israele per chi non lo sapesse significa per carità non lo critico però è così un mare di come si chiama la sicurezza al massimo in altre parole noi l'aereo che dovevamo prendere a luna di notte l'abbiamo preso alle due siamo arrivati alle tre siamo andati in albergo alle dieci cos'era le undici allenamento sei mezza partita con la Germania la Germania la Germania era così convinta di andare ai giochi olimpici che c'era Novischi che faceva conferenze stampa dopo ogni partita ci rimasero così male vero Carlo? e vabbè non sono aspettato andiamo andiamo a Stoccolma nelle prime otto e la cosa carina della partita con la Grecia al di là delle botte che ci siamo dati e nessuno dei nostri si è tirato indietro era l'undici settembre e non lo ricordo purtroppo perché l'undici settembre due anni prima c'era stata la strage in America è il compleanno di Carlo Recalcati Pietro Petrazzini instigato da me aveva preparato una torta però allora stavamo vicini io lui e il corrispondente e Pietro Colnago ma che dovete fare? e la torta se Carlo vince allora andavamo sopra di due o tre punti la torta usciva andavamo loro recuperavano la torta spariva questo avanti e indietro avanti e indietro finché abbiamo vinto è uscita questa torta e abbiamo festeggiato Carlo e la vittoria lì sul campo per cui non riusciamo cioè per cui per me Italia-Grecia significa quella torta che si muoveva appunto con Pietro poi il rapporto con lo staff il rapporto con lo staff con Carlo che lui ti dà massima fiducia non ti viene mai a dire perché hai scritto questo comunicato o come l'hai scritto è chiaro che chiede il massimo ma lo chiede pure in una maniera che tu ti senti di dare il massimo una battuta che io spesso scrivevo che era sua che diceva che noi come squadra la somma siccome sapevamo che individualmente eravamo meno forti degli avversari però la somma dei nostri valori come squadra doveva essere maggiore la squadra avversaria e i ragazzi che adesso tanto ragazzi non sono più eh lo hanno lo hanno lo hanno applicato quando fuori Basile fuori Lamma perché Lamma mi sembra all'undicesimo pure lui si fece male fuori fuori Bulleri la palla l'hanno portata Soragna e Mian per sette otto minuti e sembrava di vedere giocare appunto quando ti ricordo quando Bianchini giocava con due guardie noi abbiamo noi staff abbiamo vissuto per un anno immaginando Tony Parker che all'epoca era la stella nascente tornava tornava in patria e diceva ma avete perso con l'Italia sì e con chi hai perso tu? eh con Soragna due play nuovi Soragna e Mian come Soragna e Mian e chi so? eh non lo so però hanno vinto quindi questo è stato ci siamo alimentati da 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 dalla sfortuna poi e poi c'è un'altra cosa Carlo dice giustamente lo staff ha messo in piedi Bulleri Bulleri è uscito dagli spogliatoi che sembrava un toro che gli usciva il sdort che doveva che doveva distruggere qualcosa o qualcuno certo poi c'è il siparietto non so se vi ricordate sì sull'ultima azione Bulleri come avrebbe detto Peterson piglia una forchetta gli schizza via la palla cos'era? 6 secondi? 5 secondi? il tempo non ricordo e stavamo davanti alla nostra banchina chiunque chiunque con Bulleri che si disperava chiunque come allenatore se sarebbe mangiato il giocatore Carlo invece tranquillo si è spostato è andato all'altra parte come ex giocatore ne ha vissute tante hanno fatto la rimessa alla Francia Bulleri ha portato fuori gli ha fatto fare un terzo tempo lunghissimo marcandolo forte Parker Marco Nato ha detto che l'ha stoppato ma non è vero ma questo alla fine potevamo dire tutto e siamo andati ad avere coach però io volevo chiedere una cosa cioè dei bellissimi ricordi insomma lei ha segnato sì non ha vinto l'oro come i suoi predecessori come Gamba a Punta Perigi come Tanevic a Nantes però le sue nazionali hanno lasciato una grandissima impronta no? però anche un piccolo neo cioè nei mondiali del 2006 a Saitamai in Giappone che cosa non ha funzionato forse non so forse troppi giovani leoni che forse erano un po' troppo giovani come il duo della Fortitudo come Bellinelli e come Mancinelli oppure forse un po' di di abbiamo sottovalutato forse gli avversari perché con la Lituania poi siamo usciti direi in maniera un po' un po' rocambolesca ma non è successo nulla se non il dovere di un allenatore che deve prendersi delle responsabilità cioè va bene così no semplicemente questo io ho sempre cercato di di non vedere mai anno anno per anno ma di avere una visione a lungo termine certo e soprattutto se vi ricordate io sono uscito dalle Olimpiadi dicendo che la nazionale per la nazionale ci sarebbero stati tempi tempi bui per mancanza di giocatori perché non avevamo tantissimi giocatori all'orizzonte da poter sostituire tutti quei giocatori che stavano arrivando a fine carriera e quindi la mia preoccupazione devo essere sincero nel momento in cui siamo usciti male dagli europei 2005 la mia preoccupazione è stata quella di cominciare a costruire una squadra per le Olimpiadi del 2008 e quindi ho visto i mondiali come un'opportunità primo per poter far tirare il fiato per un'estate a giocatori che avevano dato la disponibilità alla nazionale da sempre e quindi mi rendevo conto che non so giocatori come Bulleri come Galanda durante il campionato non avevano solo il campionato ma avevano anche l'Eurolega e quindi poi dovevano tuffarsi nell'avventura della nazionale per poi dopo tornare a settembre e giocare ancora campionato Eurolega io conoscendoli bene sapevo che avevano bisogno di tirare il fiato per un'estate e guardate che non è stato facile no certo sia Galanda che Bulleri non l'hanno mica presa bene il fatto che io no ma senza dubbio in modo più assoluto però però era era l'occasione anche per cominciare a immettere in nazionale forze nuove che potevano servire poi in funzione in funzione poi 2008 infatti ci fu l'esordio di Marco Bellinelli doveva esserci l'esordio di Barniani che però si infortunò prima di arrivare ai mondiali giocammo in nazionale ci furono quell'anno Angelo Gigli ci fu in nazionale Fabio Di Bella che tra l'altro giocò un grande mondiale e quindi io sapevo che il risultato finale poteva anche non soddisfare ma non era quello che io cercavo non era quello che io cercavo io nel mio lavoro mi sentivo impegnato a una programmazione che doveva portarmi a a rifondare a ristrutturare una nazionale che per forza di cose lo doveva lo doveva essere e quindi mi sono accettato sono andato pronto ad accettarmi le critiche nel momento in cui le cose fossero andate male poi sai allora dico noi abbiamo già fatto una partita mostruosa contro gli Stati Uniti e con quella partita Bellinelli si è segnalato l'NBA perché Belli giocò una partita fantastica scusa lei giustamente stava lì sul campo io stavo invece qui in televisione c'era il commento del del grande franco lauro insieme con col marine con con buon amico che si lamentavano cioè soprattutto il buon amico sul sul fatto che mancinelli non 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 provasse neanche ad anticipare Anthony che come lei si ricorderà nel nel terzo periodo ci fece neri per meno Anthony 12 punti consecutivi esatto con la differazione non solo di franco lauro ma anche noi della panchina che ci sbracciavamo per sì sì dopo io lo ricordo con grande con grande simpatia in quel momento ci siamo tutti un po' arrabbiati perché il grande buon amico disse ma provare c'è poco di sé col microfono in bocca insomma ma provare ad anticiparlo no eh in effetti lì fu la chiave poi si giocò la nostra partita perché eravamo in vantaggio e quella quella serie di Carmelo Anthony poi dopo riportarono gli Stati Uniti in partita e poi dopo non li abbiamo più presi eh sì poi dopo arrivando alla fine tanto per dire le cose che molte volte secondo me si abusano nel dire nel parlare eh le partite si decidono negli episodi eh però è anche vero è anche vero che però ci sono degli episodi che poi dopo eh eh decidono decidono le partite e noi nella partita con la Lituania sì arriviamo tre punti sotto con il tiro finale e chiaramente se lo deve prendere Basile no? no ma lo ricordo direi benissimo ecco i lituani i lituani preoccupati non è che pensano di spendere fallo prima ma spendere fallo sul tiro del baso sì benissimo benissimo io dico ho in cassaforte i tempi sull'eventari e invece lui fa zero su tre no zero su tre è stato legato al fatto che ha sbagliato il primo sì sì certo e quindi diventava obbligatorio poi sbagliare anche il terzo non il secondo poi è sbagliato anche il secondo ma il terzo è diventato obbligatorio no certo e quindi lì così non abbiamo avuto la possibilità insomma di andare avanti nel nostro mondiale però no vabbè insomma è sempre c'è il personaggio è l'allenatore è l'uomo e ciò di recalcati non può essere certo è ricordato in Italia per la sua grandissima guarda io ti devo dire che così come ad esempio nella sconfitta poi alle olimpiadi e nella sconfitta con la Lituania la mia preoccupazione è stata ben altra che non la sconfitta mi spiego la mia preoccupazione una volta che abbiamo perso con la Lituania non è stata valutare la sconfitta recriminare sulla sconfitta la mia preoccupazione che io guardavo ho guardato in faccia Gianluca Basile nel momento in cui ha sbagliato i tiri liberi io ero sicuro in quel momento che Basile sarebbe andato in conferenza stampa dicendo che non sarebbe più tornato a giocare in nazionale ah beh e io siccome lo conoscevo benissimo io mi sono preoccupato appena c'è stato il fischio finale di andare incontro a Basile e a dirgli di non fare stupidaggini di venire in conferenza stampa con me perché lo volevo controllare perché non volevo perché ero sicuro e l'atteggiamento del Baso me lo ha confermato e però Baso poi è arrivato in conferenza stampa e non ha detto quello che avrebbe voluto dire e quindi poi dopo con la nazionale quindi stopper quindi la nazionale di stopper la coach così come ad esempio nella sconfitta con l'argentina io nel minuto finale non mi potevo permettere di pensare che stavamo perdendo la partita e che i miei giocatori potessero arrivare alla fine di quella partita frustrati dalla sconfitta e quindi mi sono preoccupato semplicemente a passare parola a tutti i giocatori che mi capitavano vicino alla pantina ai collaboratori così il messaggio doveva essere che noi non avevamo perso l'oro ma che in quella partita noi avevamo vinto l'argento e devo dire che è un messaggio che è passato perché poi i giocatori l'hanno recepito e tutti nel dopo partita e di fronte alle televisioni in conferenza stampa con i giornalisti e così tutti hanno portato avanti insomma la soddisfazione di aver vinto più la soddisfazione di aver vinto l'argento che non di aver perso una partita seppur importante Bene Gab vai tu se vuoi dire qualcosa Sì no siccome il parchetto talvolta si fa scivoloso per le cadute per il sudore eccetera anche la mia domanda adesso diventa un attimo scivolosa io vorrei sapere da Mimmo se vuole spiegarci il motivo per il quale con tanto allenatore con tanta persona che abbiamo sentito adesso in questo anno fatidico la federazione per lo meno spero di non sbagliare decide di non tenerlo su due campi uno è Siena e l'altro è la nazionale che diavolo è successo com'è passata questa cosa a noi a noi vogliamo dire neofiti vogliamo dire non conoscitori profondi ci puoi dare qualche 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 di questo aspetto perché io non credo che abbia rinunciato il coach assolutamente no ha rinunciato a cosa a Siena forse più che Mimmo forse più che Mimmo è meglio che risposta io ma io la volevo io la volevo da Mimmo perché lei risponde in modo professionale invece Mimmo la risposta mia è che delle volte gli equilibri non sono sempre al massimo bisogna capirlo e salutarsi no diplomatico no Mimmo per favore poi Carlo però a Siena gli ha fatto vincere il primo scudetto gli ha dato un metodo che poi dopo un altro allenatore poi Simone ha interpretato a modo suo per carità ci ha messo molto del suo e hanno continuato e con un certo Luca Banchi il cambio di mentalità c'è stato con Carlo certo e anche con un certo Luca Banchi che non mi sembra sia esatto cioè coach lei ha veramente creato una dinastia tra l'altro di grandi allenatori perché Siena io la ricordo da appassionato romano Siena per noi c'è una partita così poi è diventata la partita poi della vita grazie al suo lavoro Devo rimettere un po' in ordine le cose come piace a me fare ogni tanto perché prego allora io inizio inizio il mio mandato di commissario tecnico e sono a tempo pieno per la federazione ed era un momento in cui era necessario perché appunto come ho detto per me era importante avere una visione panoramica di che cosa offriva tutto il panorama basket in fatto di giocatori anche delle serie minori una volta fatto questi questi due questi due anni di di tempo pieno d'accordo con con la federazione io avevo la possibilità di passare a part time passando passando a part time sostanzialmente un vecchio mio impegno nei confronti di Ferdinando Minucci che mi ero preso anni prima quando avevo già firmato per Siena nel 1997 e poi all'ultimo movimento chiesi di liberarmi dall'accordo e quindi era rimasto in sospeso questo questo mio impegno nei confronti di di Siena e quindi nel momento in cui sono eh diventato allenatore della nazionale part time potendolo diventare ecco che Siena si è fatta avanti e ho fatto per tre anni per tre anni il il doppio ruolo esatto il doppio ruolo mi è stato possibile grazie al fatto che avevo a Siena Ferdinando Minucci con cui una volta concordate le strategie e i passi da fare in fatto di squadra sapevo che tornavo dalla nazionale e trovavo il lavoro il lavoro pronto sapevo che avevo un assistente come Simone Piagnani che poteva iniziare la preparazione della squadra e io e io tornavo che trovavo il lavoro a buon punto e devo essere onesto nel dire che Simone tutti i programmi che abbiamo fatto in quei tre anni non ha modificato una virgola e ha portato avanti le cose concordate e quindi io tornavo e trovavo esattamente questo fatto qua il nazionale era la stessa cosa che nazionale c'era Claudio Silvestri con il quale con il quale decidevo la programmazione e nel momento in cui ero impegnato con Siena in campionato in Nerolega sapevo che Claudio Silvestri lavorava per farmi trovare tutto pronto nel momento in cui finivano i playoff e il giorno dopo arrivavo in nazionale sono andato avanti per tre anni così sono stati 36 mesi noi obiettivamente io non ho fatto un giorno di vacanza e vi garantisco che ho potuto fare grazie a quelle due persone che mi davano assoluta assoluta sicurezza poi cosa succede succede che il mio rapporto con Siena finisce come è abbastanza normale che sia il mio rapporto con Siena era triennale e all'inizio avremmo dovuto vincere il campionato non al primo anno ma nei tre anni l'abbiamo vinto al primo anno per cui sicuramente meglio però poi dopo i rapporti chiaramente si esauriscono si esauriscono c'era pronto Simone Pianigiani perché chiaramente il mio lavoro era quello che poi ho fatto anche a Venezia quello di preparare esatto il mio assistente a diventare capo allenatore che oggi si può dire che guarda caso anche lui è diventato un signor allenatore guarda caso e quindi esaurito esaurito quel momento ci troviamo nel 2006 nel 2006 e parliamo appunto abbiamo parlato prima dei mondiali entro in una fase in cui mi rendo conto che pur avendo la possibilità del part time è necessario che l'allenatore nazionale torni a essere a tempo pieno perché deve riprendere tutto quel lavoro che io avevo fatto prima degli europei 2003 proprio nell'ottica di dover ricostruire una squadra e preparare la transizione tra una vecchia squadra e la nuova e per cui è stata una decisione mia quella di fare l'allenatore a tempo pieno della nazionale dopo il 2006 questo è per rimettere in ordine le cose per chiudere Mimmo scusami Luciano vuoi dare qualche altra vuoi fare una domanda o vai sì ho la domanda perché appunto io so sempre dell'idea che ogni allenatore ogni così oltre ad avere appunto il suo staff come ha enunciato prima coach con Pianigiani a Siena Silvestri nazionale però c'è sempre un leitmotiv nella sua carriera cioè un suo legionario fisso che è Giacomo Galanda cosa ha dovuto a questo suo rapporto da quanto era importante sia a livello tecnico che a livello proprio anche abbiamo anche poi e poi abbiamo anche intervistato Jack Galanda tra l'altro in due circostanze prego coach allora Jack Galanda è diventato importante per me prima dal punto di vista tecnico e poi anche dal punto di vista della gestione della squadra dal punto di vista tecnico perché ha iniziato con me io lo voglio a Varese perché in uscita da Verona in uscita da Verona no in uscita da Fortitudo ah sì giusto lui era 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 sotto contratto con la Fortitudo e noi lo prendemmo lo prendemmo in prestito a Varese perché l'input in quell'anno della società e quindi anche della squadra era quella di essere un po' diversi dai canoni tradizionali che erano nel nostro campionato sia dal punto di vista della gestione societaria sia dal punto di vista della gestione tecnica quindi Galanda per me rappresentava il giocatore ideale per poter variare estaticamente le nostre i nostri contetti le nostre partite perché lo vedevo lo vedevo più come pivot che come alla forte tant'è vero che quando io parlai con Jack per convincere a venire a Varese molto chiaro gli dici guarda che però non pensare di venire a Varese a giocare alla forte come fa il nazionale come fa il fortitudo perché io ho già deciso che la la forte di Varese sarà Sandro De Pol il quale non sapeva che avrebbe giocato alla forte perché lui si considerava una guardia e una alla piccola però questo spirito di innovazione e di essere diversi diversi dagli altri ho deciso che volevo un numero quattro che portasse anche la palla nei contropiedi per far correre Pozzecco Meneghin e tutti gli esterni anche perché a Varese di alla piccola c'era invece un Mersic che era insostituibile fondamentalmente c'era Mersic e c'era Cecco Vescovi esatto e quindi però e quindi quando parlai con Jack gli dissi chiaro guarda che se ti senti giocare pivot il posto per te c'è e lui mi disse sì sì non ho nessun problema ho giocato pivot fin dalle giovanili a Verona e quindi non ho nessun problema ed è stata la nostra chiave quindi lui è diventato per me il giocatore indispensabile nelle mie squadre perché lo è stato a Varese lo è stato in Nazionale e lo è stato poi alla Fortitudo e lo è stato poi poi a Siena proprio perché per me rappresentava il giocatore capace di scombussolare i piani agli avversari perché nel momento in cui io andavo a schierare Jack come numero 5 diventava un grosso problema per i lunghi avversari diventava un problema nostro difensivo chiaramente però avevamo armi all'interno o con l'organizzazione per poter ovviare ai piccoli problemi difensivi che avevano quindi Jack è nato come diciamo il mio giocatore ideale dal punto di vista tecnico però via via è diventato anche l'uomo che mi ha che ha imparato a conoscermi così bene che poi nella gestione delle squadre addirittura molte volte mi anticipava perché da Varesi poi quando poi a metà anno della fortitudo perché è arrivato in fortitudo siamo in punta di piedi perché chiaramente si ricordava insomma dei trascorsi dove era effettivamente non gli veniva data grande considerazione però sapeva che io gli davo tanta considerazione quindi la metà della stagione in fortitudo poi nazionale è diventato quello che mi anticipava perché mi conosceva talmente bene che nelle mie arrabbiature che cerco sempre di nascondere lui le percepiva in anticipo e allora mi diceva senti cosa ho capito che forse è meglio che parlo con la squadra ecco io avevo l'abitudine ad esempio una volta non più di una volta perché sennò perdi efficacia piuttosto che spendere tante parole per la squadra in certi momenti chiave della stagione in campionato o dell'estate con la nazionale piuttosto che spendere io delle parole di dire alla squadra ragazzi qui penso è arrivato il momento che vi confrontate e dichiariate le idee ci chiudono lo spogliatoio per mezz'ora e voi cercate di uscirne con le idee chiare vivi possibilmente vivi Jack Jack da un certo momento in poi non mi ha neanche dato la possibilità di essere io a decidere di chiudere la squadra dentro lo spogliatoio perché lo faceva lui lo faceva lui di sua iniziativa avvisandomi dicendo ho capito è il momento di fare quella cosa ecco bravo Jack hai capito quindi è anche fondamentale Mimmo dacci anche qualche tuo ricordo tra diciamo quei campionati meno diciamo soddisfacenti dal punto di vista del piazzamento ma qualche aneddoto non so degli europei sfortunati del 2005 anche dei mondiali di Saitama tra l'altro proprio in quei giorni in cui c'era il mondiale nasce appunto oran.net che il 21 agosto farà farà 15 anni pieni se ci puoi illuminare Mimmo ma ci sono piccolissime cose che poi i ragazzi intanto Galanda Basile e Mian erano i capitani della squadra dettavano loro le regole i ritmi e non so se Carlo lo sa ma a mezzanotte li andavano a prendere li portavano in camera se tu sta in camera dice ma guarda un porno ma sta in camera il butto dentro fai quello che vuoi ma tu a mezzanotte e e poi c'era Basile che era il vice capitano ma come dire era quello che poi Paso parla poco ma annuiva e gli altri obbedivano poi non so se Carlo sa che a Porto San Giorgio c'è il tavolino Michelori il tavolino Michelori è il tavolino dove Carlo ha detto a Michelori che non l'avrebbe portato ai giochi olimpici dopo due anni mi sembra che lui è stato convocato Miche è stato convocato di nuovo per le qualificazioni europee si si vedete ci porta proprio nella questo tavolino qui mi ha tagliato lascia perdere che ha fatto bene ma qui mi ha tagliato questo è un posto di dolore dolore certo quella ma quegli anni in cui noi abbiamo giocato noi abbiamo giocato sì noi abbiamo giocato con formazioni non per quelle che potevano essere Carlo il gran lavoro che ha fatto al di là dei singoli giocatori che ci potevano essere ricordo una per tutte le partite in Ungheria che è stata l'unica volta che non è venuto a parlare con me a fine partita perché siamo riusciti a sbagliare gli ultimi dieci tiri aperti consecutivi e loro lo ricordo perché li ho contati e non perché no certo dieci tiri aperti consecutivi loro hanno vinto e hanno festeggiato come se avessero vinto l'Europeo e poi da quella partita è di peso tutto ma al di là del fatto che c'avevi la Francia Tony Parker e così la partita con l'Ungheria Carlo non avevamo non avevamo gli NBA però Carlo la cosa importantissima è stata che chiunque siano quei dieci che vanno in campo e quelli sono la nazionale quelli vanno supportati al massimo noi venivamo noi venivamo appunto dalle medaglie la cosa più triste forse sempre in Ungheria non so se Carlo ti ricordi esattamente a quattro anni dalla nostra finale ci fu la finale il giorno dopo prima di partire fra Stati Uniti e Spagna insomma non fu carino vedere quella stessa partita giocata da altri però la cosa i dieci che vanno in campo i dodici che vanno in campo chiunque essi siano pure se sono i giocatori C in quel momento rappresentano la nazionale in quel momento lo sforzo di tutti deve essere metterli nelle migliori condizioni per giocare perché non puoi non puoi lavorare bene se hai Bargnani e Belinelli o Marco Nato e Chiagic e lavorare male se hai altri giocatori considerati meno importanti assolutamente e poi ci siamo accorti che aveva talmente ragione Carlo che i giocatori meno forti sono diventati importantissimi per noi della nazionale che i giocatori che erano seconde linee non è carino fare nomi però modi di parlare i modi di parlare sono rimasti fra di noi perché c'erano quei giocatori perché prima di essere grandi giocatori erano grandi persone quindi noi abbiamo avuto grandi persone che sono riusciti a fare belle cose negli anni poi poi i cicli sono i cicli no 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 non voglio assolutamente creare diciamo delle situazioni un po' sgradevole noi abbiamo parlato noi qui di oran.net soprattutto in tripla doppia abbiamo parlato molto della nazionale che recentemente abbiamo visto nei vari mondiali nei vari appuntamenti quindi non tocchiamo questo tasto noi tutti ci siamo fatti una nostra idea chi dice che sono male assortiti io credo che non siano particolarmente motivati non che giochino contro ma che non siano mentalmente ben focalizzati sull'avvenimento io parlavo di quegli anni libero no 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 assolutamente parlo io di oggi quello di oggi quello che abbiamo visto pure se effettivamente le le ultime due due gare che ha condotto alle qualificazioni europee contro l'Estonia contro la Russia ci fanno ben sperare quantomeno come spirito di combattimento e coach un'ultima cosa poi lascio lei ha sicuramente lei ha dato dove è andato andato ha inciso in maniera straordinaria però mi permetto di dire io sono di Catanzaro probabilmente a Reggio Calabria lei ha lasciato una grandissima impronta per non dire poi anche della della del suo del suo proprio lancio di una Reier Venezia che tornava in Serie A dopo tanti anni di Serie A 2 di Punta Nominato ci dica che cosa potrebbe collegare Reggio Calabria che sta a migliaia di a un migliaio quasi di appunto chilometri da Venezia ma guarda a collegare per le mie esperienze esatto certo scusi forse non mi sono spesso bene no sicuramente sicuramente la capacità di di programmare perché io sono andato ecco direi proprio un parallelo è questo io sono andato a Reggio Calabria nel 90 e poi sono andato quindi a distanza di 24 anni sono andato a Venezia esatto c'è una costante che erano due società in netta crescita perché erano state capaci tutte e due di partire da lontano e di passare attraverso anche a qualche delusione come non vale che ci sia delusione non vuol dire dover mettere in discussione una programmazione in cui tu credi perché se hai chiaro che devi fare delle modifiche devi apportare dei cambiamenti però quello che è il nocciolo della questione deve rimanere la programmazione deve rimanere tale quindi posso dire sì posso dire che cosa è mancato a Reggio Calabria per arrivare ai successi che poi ha avuto ha avuto Venezia è mancato che il canestro di Folkov forse no no il canestro di Garrett torniamo il canestro di Garrett a Treviso è stato ma io l'ho detto anche recentemente ci siamo risentiti qualche settimana fa con il giudice Viola con l'ingegnere Scandia con Sasha Volko con Dean Garrett con Santoro a Venia tutti i protagonisti di quella di quell'anno lì e lì ha segnato veramente il momento negativo per il futuro della della Viola Reggio Calabria mi spiego noi vincendo quella partita avremmo avuto la possibilità di di andare in semifinale con Pesaro e l'avevamo battuta sempre facilmente avremmo giocato la finale con la Virtus avrebbe vinto la Virtus perché era troppo forte quell'anno la Virtus però il fatto di andare in finale avrebbe permesso al nostro sponsor che era Panasonic di poter estendere la sponsorizzazione diventando Panasonic Europa mentre eravamo in quel momento Panasonic Italia e questo ci avrebbe dato la possibilità di mantenere di trattenere Volco di trattenere Garrett e di fare programmi di partecipare all'Eurolega perché in quel periodo le prime due squadre partecipavano all'Eurolega non c'era ancora l'Uleb quindi era l'Eurolega sotto legge della FIBA e quindi noi in quel modo avremmo avuto la possibilità di poter continuare e invece tutto questo non fu possibile che la Monica lasciò perdemmo Volco per perdere Romo Garrett si dovrebbe vendere Douglas Bonofini per monetizzare e per poter comunque dare un futuro e lì diciamo che la programmazione si è Mike Young si è inceppata no Michael Young è stato rimasto è stato sostituito in quell'anno da Sasha Volco ti racconto se abbiamo tempo ti dico per dire Reggio Calabria quanto entra nel cuore Reggio Calabria Michael Young non voleva andarsene da Reggio Calabria io gli spiegai che era una mia scelta tecnica perché volevo riportare Donato Avenian alla piccola e un giocatore come Sasha Volkov e di fatti Michael Young dice no no io mi faccio da parte se viene Sasha Volkov capisco benissimo però finché Volkov non firma io non firmo da nessun'altra parte lo voleva il Limoges mi telefonava Malikovic e mi diceva non riesco a capire questo giocatore cosa c'è che è Reggio Calabria ho la possibilità di venire a Limoges di giocare l'Eurolega che poi quell'anno andò a finire che vinsero l'Eurolega esatto poi vinsero contro la Berettozzi ma cos'è Reggio Calabria perché un giocatore non vuole mai andarsene e di fatti voglio dire tu hai tirato Michael Young lui firmò a Limoges solo il giorno in cui noi si fece il comunicato ufficiale della firma di Sasha Volkov e quindi ecco mentre invece voglio dire il percorso di Venezia non ha avuto fortunatamente un epilogo di quel tipo lì e hanno avuto possibilità di proseguire nella loro programmazione e di portare a termine il percorso ma io mi permetto sommessamente di far notare che la Reier Venezia negli ultimi anni vince perché è tetragona è compatta è solida non ha sbandamenti cambia uno due giocatori al massimo dal mio modesto punto di vista è grande forza coach credo no? no no è una forza è una forza che è proprio quella appunto di stirare un programma e di restare di fedele anche l'anno in cui non vinci perché proprio pensi di essere comunque nel giusto di affidarti a uno staff consolidato e quindi non apportare modifiche neanche per quanto riguarda lo staff di seguire il tuo allenatore nel lavoro che fa prego coach dunque allora siamo andati leggermente lunghi stasera veramente però era talmente appassionante che chiediamo scusa che effettivamente Mimmo c'è qualcos'altro per dare una chiosa per cercare di chiudere in bellezza questa straordinaria serata? sì una cosa che era la prima estate che lavoravamo assieme se non sbaglio stavamo a Lassio Carlo per ricordare il periodo fu quando avevamo ancora le polo grigie di allenamento con la scritta Italia con le stelle e fu quella e quell'occasione che facemmo Meneghin mi chiese di fare una foto a Carlo e lui mentre Carlo gli passava la palla per dire la storicità del momento ma non è questo io e Carlo stavamo a centrocampo e la squadra stava uscendo per andare io stavo un po' più avanti Carlo un po' più dietro e stava la squadra la squadra uscendo per andare a come si chiama a pranzo al che io ho detto Carlo guarda ma hai notato che i giovani della squadra hanno tutti la maglietta fuori dai pantaloncini mentre tutti i vecchi della squadra ce l'hanno dentro ce l'hanno dentro ci guardiamo intorno e vediamo che Galleani ce l'ha dentro Meneghin ce l'ha dentro io ce l'avevo dentro i due assistenti Piccin e e e Fabrizio ce l'avevo dentro Carlo che stava dietro di me fa due passi in avanti leva la maglia dai pantaloni dai pantaloni la lascia giù e dice è vero i vecchi della squadra hanno la maglia nei pantaloncini da allora ne io ne lui senza dire niente a tutti abbiamo più messo la maglia nei pantaloncini non so se Carlo te lo ricordi sto questo passaggio ma è assolutamente vero Cozzo e io la ringrazio un ultimo Gab c'è c'è qualcosina Lucio c'è beh io un'ultima curiosità direttore un'ultima curiosità direttore per quei tanti ascoltatori anche giovani che ci seguono che magari direi calcati giocatore sanno poco ma insomma glielo diciamo noi che ha vinto ovunque è andato perché ne ha vinti tre magari non gli hanno ritirato la maglia numero sei la quattordici l'hanno ritirata ma queste sono storie che non vogliamo tirare fuori io invece ho intercettato da qualche parte nello studiare il personaggio il fatto che lui abbia sempre detto a me Messina è uno di quegli allenatori che mi ha migliorato allora volevo sentire dalle sue vive parole che cosa significa è un atto se vogliamo di umiltà meraviglioso un coach che è arrivato dove è arrivato che ti dice a me Messina mi ha sempre migliorato in quale senso coach? sì io lo dissi pubblicamente in occasione degli 80 anni della federazione l'ho ribadito conferma l'estate scorsa quando quando Ettore decise di tornare in Italia e e dissi quelle cose perché era una cosa che io provavo nel momento in cui da avversario dovevo incontrare le squadre di Ettore e mi rendevo conto che tutto il lavoro e tutto l'impegno che io mettevo quando preparavo le partite contro altre avversarie contro le squadre di Ettore non bastava mai e non era mai sufficiente e quindi ogni volta che incontravo la squadra di Ettore dovevo ingegnare dovevo fare di più sentivo che dovevo essere più bravo diventare più bravo più preparato più accorto più minuzioso e in questo modo secondo me Ettore ha dato una spinta non solamente a me ma a tutti gli avversari che ha avuto nella sua nella sua carriera l'occasione di affrontare quindi ecco in questi termini io ho ho detto e ho riconoscito a Ettore a Ettore di essere straordinario straordinario capace di migliorare i propri colleghi quando qui insomma insomma un insegnamento straordinario Lucio che cosa vuoi dire come ultima chiosa? Come ultima chiosa volevo chiedere l'affare Torino con i signori con i signori forni come cosa è successo veramente che tutto ancora ti ringrazio ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di chiarire una cosa che è rimasta così lì un pochino esatto allora io ho avuto avevo avevo un ottimo rapporto con papà forni da prima che andassi a Torino e quando sono andato a Torino con il giovane forni ho avuto un buon rapporto non ho mai avuto problemi di quelli che si sentivano ecco che tanto per dire che si si chiacchieravano sarà stato perché sono stato solo tre settimane sarà stato perché avevo un po' di succezione nei miei confronti però anche nella sua frenesia ad esempio di cambiare giocatori lui mi proponeva io dicevo no ed era no e quindi da questo punto di vista qua il vero motivo per cui io ho lasciato Torino è che io ho avuto per la prima volta in vita mia quindi una bronchite esatto ho avuto una una bronchite molto seria cosa che non avevo mai provato io non mai non sono mai stato così male in vita mia io ho 75 anni l'unico malanno vero è stata quella bronchite che mi ha segnato mi ha segnato veramente a livello a livello mentale perché non sapevo fino a quel punto che voleva dire fare male non avevo mai saltato l'allenamento non avevo mai saltato una partita non avevo mai saltato una bronchite e quindi siamo trovati per 10 giorni a dover combattere con chebre a 39 39 e mezzo e la prima bronchite in quel periodo abbiamo fatto trasferta a a Vilnius da da Vilnius siamo andati direttamente a Sassari quindi sbalzo di temperatura di 10 12 gradi da Sassari siamo tornati a a Torino abbiamo giocato il giorno dopo siamo saltati sull'aereo per andare a giocare a Monaco 10 giorni che non auguro sinceramente a nessuno a nessuno in vita mia sono stato di un male adesso voglio dire certo per me per la mia percezione no? che poi mi rendo conto che le malattie sono altre non è sicuramente una manchita però io in quel momento mi sono sentito di non essere in grado di poter dare ciò che io abitualmente volevo dare alla mia percezione perché sentivo di essere limitato certo quindi ho preso io avevo contratto anche per l'anno successivo e ho lasciato tutto ho lasciato tutto ho lasciato tutto ho parlato con il presidente Forni gli ho spiegato le cose ho dovuto chiaramente con lui poi andare da un funzionario Fiat per spiegare che effettivamente era una decisione mia che non era legata a dissapori però sa però però sa coach quando le pietre rotolano poi mi rendo conto però io quando c'è la società e le ringrazio mi piace insomma rimettere le cose al proprio posto bene benissimo ha lasciato un record ha lasciato un record anche lì perché il suo secondo in una settimana si va a vincere un trofeo che allenatori non vincono da per anni è vero è vero e beh insomma che poi tra l'altro poi una poi una grande prestazione come tutti poi ci ricordiamo in finale contro Brescia signori io vi ringrazio perché abbiamo creato questo spaccato straordinario con con una persona sarà anche normale ma a me sembra straordinaria do quindi un caro saluto a Lucio Luciano Pizzi ciao Lucio ciao direttore ringrazio coach ringrazio Mimmo e saluto tutti Mimmo un caro caro grande grande abbraccio a te grazie il microfono Mimmo ah perché purtroppo c'è quel rumore di sottofondo che purtroppo vai un caro saluto a tutti con il microfono acceso grazie Mimmo scusami c'era quel c'era un rumore nessun problema eh coach Gab eh grazie a te e buona serata ci vedremo la prossima grazie direttore per l'opportunità due persone splendide e devo dire nessuno come lei direttore è riuscito mai a silenziare un uomo che per 30 anni è passato dalle offset a piombo alla multimedialità spinta di questi giorni non si è stato mai troppato da nessuno lei con un giro in palleggio soprattutto per così tanto tempo con un giro in palleggio gli ha bloccato l'audio e ha fatto non era niente non era niente intenzione e intanto grazie coach Gab e buonasera ancora grazie per averci onorato della sua presenza delle sue delle delle sue parole del suo credo del suo pensiero a coach Carlo Ricalcati sperando di vederci alla prossima grazie ribadisco quanto ho detto all'inizio grazie a voi che mi avete dato questa opportunità di passare un po' di tempo in splendida compagnia troppo buono coach grazie e ci vedremo alla prossima grazie ciao buonasera